Ben trovati da TG della mobilità stop ai veicoli più inquinanti da oggi a domenica nella fascia verde in questi tre giorni dalle 7.30 alle 20.30 oltre a moto e motorini Euro 0 ed Euro 1 e alle auto benzina e diesel da Euro 0 ad Euro 2 si fermano anche le auto diesel Euro 3 in due fasce orarie al mattino e al pomeriggio i dettagli su romamobilita.it. Inaugurazione dell'anno giudiziario nella sede della Corte di Cassazione a Piazza Cavour su fronte del trasporto pubblico stamattina fino alle 14 le linee 49 e 990 spostano il capolina da Piazza Cavour a via Crescenzio. Infine questo pomeriggio possibili modifiche per le linee di bus nell'area di Piazza Cesare e Battisti per il sit-in degli studenti in Piazza Santi Apostoli dalle 16.30 alle 19.00. Tutto per questa edizione.